Il tutto è un'opera del 1897 dello scultore palermitano Gian Rizzo, che anche lui, diciamo così, un patriota noto come molti artisti, il nostro Tassara, tanto per citarne uno scultore anche lui. Dunque ringrazio che ha consentito questo trasloco a partire dal Sindaco Meschini, a partire dal Consiglio Comunale del 2008, che alla unanimità votò una mia mozione che proponeva lo spostamento di quel busto dal cosiddetto largo dei donatori del sangue, già Giardini Mazzini, ma insomma chiamato...